ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video eccoci qua con un'altra simpatica puntata dedicata alle vostre collezioni di orologi perché il fulcro del canale sono gli orologi e non l'orologeria noi qua non vogliamo volare alto noi parliamo di orologi di semplici orologi che tutti a casa avete tutti tutti voi che state guardando quasi sicuramente avete una sfilza di orologi orologini orologiacci a casa quindi non fate altro che fare delle riprese con lo smartphone anche no però in orizzontale sette minuti otto spigliati no proprio raccontare le cose salienti senza fare e senza essere didascalici cioè come se fosse a leggere una scheda tecnica no metteteci del vostro e poi lo mandate qua come sovraimpressione vedete le informazioni che vi do l'orologio del giorno oggi è questo simpaticissimo oris diver 65 acciaio e bronzo simpatico orologio con il quadrante blu che più blu non si può però è talmente blu che è nero poi il combo acciaio e bronzo virato mi dà poi quel quid in più che lo indosso con soddisfazione capito mi da piacere mi da piacere indossarlo è che che se ne dica mi da piacere indossarlo adesso vanno i discorsi come al solito superflui e passiamo con il primo video è dito un focato barra spaziatrice preparati alla guerra e via buonasera davide ciò che a tutti gli amici del canale a te allora un anno che ha iniziato insomma le vornese di volenzionare orologi è iniziato molto male traccio freche varie che fortunatamente sono riuscita a rivende subito meno male da almeno subito dopo che poi è avvenuta l'apparizione mistica del tuo canale che ho visto la luce ho iniziato a capirci fra forse a forse non lo so è però forse ho iniziato a capirci marcosina li vediamo andrò in ordine d'acquisto delle orologi che praticamente siamo quasi un anno e nulla da inizio ed è con questo secchino qua bellino qua ci ho messo un bracciale della mirtat addirittura della vista fonda la vista senti che livornese belli gli accenti del nostro bel paese sono dal siciliano al trentino no ognuno particolare bello fonda ora è speso più del cinturino che dell'orologio perché l'orologio questo era 150 140 130 e cinturino e bracciale cinturino il bracciale d'acciaio della miltat alias strap coat costa anche quello più di 100 euro praticamente però d'altronde come spesso dico il bracciale e metà orologio cioè non è che dobbiamo poi risparmiare su quello sicuramente ha fatto un bel lavoro fa il suo no il mio problema è l'hardlex che insomma si è graffiato uno sgraffione subito via sgraffione con la s infatti quando mi muovo sbraccio morto e quindi sbraccio picchio l'orologio da tutte le quarti e se uno sbraccio uno sbraccio in questo caso duro che a me piace assai con la cosa se lo sono voluto al mare quest'estate fatto bene l'ho alternato insomma con con un altro 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 un po meno visto sul vostro bello che so cosa il tuo capito pino topino questo mito ocean star 200 c'era molto bello mi garba grigio così fine quadrante bellissimo sottilissimo tra l'altro poi con la micro regolazione vi vi è veramente una pacchia andossarlo una cosa mi sembra che il dot qui a ore 12 insomma sulla ghiera mi sembra insomma che sia stato montato un po in uno storto anche allora ha bloccato l'immagine qua io storto sinceramente io qua non lo vedo storto ragazzi cioè se poi anche fosse no ma io non lo vedo è ma poi se 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 non lo vedo da quasi via che se è storto mettiamola così è talmente infinitesimale che si tratta di che rientra nelle tolleranze perché ragazzi io qua non vedo niente di storto la roba storta l'ho vista è comunque non so se si vede vissolati non mi sembra mica tanto bene allineato ma ma te ma te si droghi da boh vabbè ma poi 0 sea aurora field 38 mm in titanio carino bellissimo bell'altro bellissimi quadranti spaziale nel vero senso la parola ecco il rischio di questi quadranti no che sono belli non visti di orologi di tantissime marchi che fanno i quadranti così rugosi puntellati stellati mettila come vuoi no è che il passaggio la linea sottile che demarca la finezza al giocatoloso è sottile basta esagerare un pochino si va sul sul pacchiano sul giocatoloso sul plasticoso cazzo tutti tutti gli aggettivi come petaloso ho inventato quando lo so bisogna vedere loro dal vivo bello 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 però vorrei che come lo zucchero filato no bello buono 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 poi dopo un po anche basta zucchero filato no e niente poi c'è un design che rispecchia un po secondo me quello che sono insomma gli anni in cui si vive ora no gli anni venti anni venti poi regalo anche un po di tridimensionalità bravo hai imparato finiture bellissime c'è anche questo qua c'è anche quella regolazione insomma morto robusto pinna a viti ho fatto bene lavora molto bene 0 l'unico problema secondo me anche questo questo orologio vi sembra un troppo piccolo per il mi corso abituati è questione di abitudine una volta che l'ha indossato che ti abitui che insomma oddio sì forse sembra un po non lo so non ha sempre dato l'impressione assi un po troppo piccolo magari sono io mi faccio le seghe mentali ma comunque sia me lo indosso con piacere bravo con piacere tra l'altro indosso in cantiere dove c'è insomma molto molto lavoro col metallo dove ci sono insomma tutte molature sardature da bevare secondo me il titanio è quello che ci vuole in questi questi ambienti qua perché se l'acciaio al carbonio va a colpire l'acciaio inox c'è il rischio che lo vada a contaminare tra l'artreose inizia a formarti la ruggine nonostante che magari un orologio sia tipo di inox questa non la sapevo e quindi secondo me il titanio in questi ambienti qui è il più indicato di tutti poi ci sono preso un bel longin che bello conquest da 41 il vecchio longin conquest è quello che a me piace di meno e ho detto che bello perché salta fuori così è bello lo vedi è bello però a me piace di meno questo modello qua piace più il conquest nuovo però questo qua non mi è mai andato giù al cento per cento dall'amico dall'amico giacomo gioielleria pasquale domenici bellissimo tra l'altro mi piace veramente tanto che con le spallette di protezione caratteristiche proprio secondo me di questo orologio molto bello molto molto bello dal bello molto bello poi siti sempre master bravo molto bello anche questo caratteristico molto bello non può mancare in ogni collezione secondo me ci sta ci sta anche questo lo uso in cantiere nonostante che insomma sia comunque acciaio normalissimo però fa il suo bello robusto valore esistente se vuole pace no l'ultima entrata in collezione e cose timex belli timex expedition ci ho cambiato il cinturino ci ho messo un cinturino della zulu diver tra l'altro che ho visto sul canale costa che uno ce l'aveva questo cinturino qua sono andato un pochino a cercare e mi ha garbato subito ci sta a bestia a bestia una cosa che sul sito c'è scritto 20 mm devo fare la misura perché a me non mi sembrano 20 mm o la timex scavolato oppure mazzurro da vera scavolato misura le misurine core calibro non ve lo dico non lo dico a nessun bravo comunque molto bello questo orologio guarda molto bello secondo me lavora molto bene timex una cosa che siccome hanno un orologio recente insomma ci potevano mettere un miota della serie 9000 8.000 però mi sembra che c'è il fermo macchina sì anche pro master l'ho preso il fermo macchina che culo è molto bello guarda lì ci sta bello bello davide penso di aver detto tutto anch'io bravo nulla ti ringrazio continua così un salutone a tutti ciao buona serata ciao 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 simpatico l'amico qua toscano dico toscano non mi voglio sbilanciare ma secondo me è livornese al cento per cento però siccome non l'ha detto diciamo toscano simpatico gli orologi tutti belli tutti tutti validi tutti con una ragione di esistere con un senso non ho nulla assolutamente da dire l'ultimo timex anche quello lì in titanio ti piace il titanio si vede è bello è una delle ultime uscite di timex ed è proprio carina bello a che vedersi te dici perché non ci mettono il miota 9000 poi dopo però siete disposti a pagare invece che x x 2 il prezzo di acquisto di un orologio col miota 9000 perché te lo fanno pagare ci sono i timex col miota 9000 ci sono arrivano cominciano a costare 8 900 700 che non è in assoluto tanto rispetto agli altri marchi però rispetto ai timex più economici lo è perché con due trecento euro te li porti a casa i timex economici col miota 8000 quindi si va già al doppio tutti a dire ci possono mettere te vuoi dire ci possono mettere il miota 9000 tenere il prezzo a 300 e bravo e sono buoni tutti no volere la botte ubriaca e la moglie piena sembra un torno così ma va bene come detto no teniamoci il timex con calibro 8000 e cosa ce ne frega no dai prossimo video prossimo video ciao davide sono romele dalla sicilia bravo e questo è il secondo video che ti faccio un primo te l'ho fatto un annetto e mezzo fa circa bravo da credo di essere arrivato adesso alla collezione perfetta per quello che riguarda ovviamente i miei gusti a livello di idea dentro questa collezione ci ho messo tre diver per il mare il primo è questo seiko samurai edizione manta che quest'estate ho utilizzato abbastanza al mare poi citizen promaster full room con jubilee a cui ho riadattato un bracciale jubilee secondo me parte che ci sta bene diventa secondo me in questo modo una via di mezzo fra le skyx e il promaster però è una scelta che ho fatto perché il intanto il bracciale originale e dopo due tre volte di utilizzo al mare dalle ripiegature mi ha cominciato a tirar via un po di ruggine e quindi l'ho tolto gli ho messo questo e lo alterno qualche volta con un cinto infatti alterno ora sentivo questi orologi qua no insomma di dubbio di dubbio qualità nel senso non di dubbio qualità sono di qualità ma il bracciale è fatto in modo e maniera da essere economico no sottile leggero di come devo tira fuori la ruggine ora io questo non lo sapevo è se se è un caso unico se è così però il suggerimento è quello di utilizzare questo orologio al mare con un nato con un cinturino in gomma cioè è veramente adatto per la stagione per la situazione con il nato addirittura puoi giocare sui colori ma soprattutto il nato ti dà la sicurezza di non perdere mai l'orologio io a quasi tutti scommetto che è successo di aver messo a misura il bracciale magari con la spring bar nella scatoletta che non era perfettamente messa a posto fai così ti metti la scrivania ti si sgancia e ti rendi conto cavoli se fossi stato in acqua in un'altra situazione l'orologio sarebbe andato perso ok quindi io per evitare queste situazioni spiacevoli quando quando posso non sempre anch'io vado al mare con l'orologico bracciale utilizzo il nato con il nato sei proprio sicuro perché se si stacca una spring bar rimane a peso cioè dovrebbero staccarsi tutti e due veramente si tratterebbe della coincidenza delle coincidenze no poi insomma visto che il bracciale del pro master non è di qualità tanto vale metterci qualcosa un gomma dai un gomma va benissimo turino quello in gomma più classico terzo diver per il mare bulova devil diver qui io riadattato mi piaceva avere un collezione un orologio con il bracciale mesh credo che insomma l'accoppiata possa essere bella ma sì e quindi ho il bracciale quello originale però molte volte utilizzo questo tipo di bracciale simpatico dentro la mia collezione ci ho voluto mettere un acciaio e oro e ho scelto ma non è acciaio e oro da pro driver qui partirà il cio fecal è già partito ma volevo un acciaio e oro più che altro per per vederla in collezione non per utilizzarla perché se la utilizzo solo utilizzo due volte l'anno è tanto quindi ho voluto prendere qualcosa di poco impegnativo infatti come vedi è in tonso praticamente e fanno rimanere così poi in una collezione ideale secondo me ci stanno due orologi vintage questo è il primo ed è un 6 colored matic anni 70 questo apparteneva a papa che non c'è più e quindi insomma l'ho fatto revisionare non l'ho fatta rilucidare né cassa né bracciale perché con i segni del tempo secondo me insomma è un modo anche per non cancellare quella che è stata la storia di un uomo di una persona importante zenith stellina questo apparteneva pure a papa però io l'ho dovuto revisionare la cassa l'ho dovuta riplaccare ho cambiato il vetro e ho cambiato la corona e ho fatto ristampare il quadrante perché era completamente illegibile però questo diciamo è quando lo indosso lo indosso sempre con piacere piacere bravo poi secondo me in una collezione idealmente non possono mancare due everyday watch e quindi il primo è un orient bambino è abbastanza grande però il mio polso comunque è da 18 e mezzo e ci sta comunque abbastanza bene sì altro everyday watch tisso prx powermatic 80 da 40 mm bello questo questo l'ho scelto con questo quadrante blue eyes che insomma alla luce fa delle sfumature molto molto accattivanti e tanti mi mi chiedono mi dicono ma questo che tipo di orologio è insomma un orologio che mi dà abbastanza anche questa soddisfazione idealmente secondo me in una collezione non può mancare un diver un po più importante e cos'è la mia scelta è caduta su questo bravo topino è un jean idroconquest da 41 la versione quella in ceramica adesso ci sono un pochettino di stampe sulla ghiera è un orologio che si può portare insomma in qualsiasi tipo di occasione con la polo con i pantaloncini giacca e cravatta insomma è davvero un orologio spettacolare io l'avevo già comprato tre anni fa poi l'ho rivenduto per finanziare un altro acquisto me ne sono pentito amaramente adesso fortunatamente da un mesetto a questa parte è rientrato in collezione ci sta secondo me in una collezione un orologio elegante ho scelto questo Tudor Blue Royale da 38 quando sono andato in boutique ero un po' più orientato sul 41 che è la versione dei date però quando poi li ho visti accanto il livello di eleganza il 41 perde perché è troppo grande poi ha il bracciale integrato quindi sembra ancora più grande per cui alla fine ho scelto approvo la tua scelta di prendere il 38 mm anche se non li ho mai provati però sono convinto così a sensazione che il 38 mm di questi di questi modelli fatti così sia quello più adatto forse è meglio ancora il 39 se esistesse il 39 come l'Icon del 39 era il mio preferito anche se l'ho venduto ho tenuto il 42 e me ne sono pentito perché era il 39 la misura più adatta per me poi ognuno sceglie c'è chi piacciono gli orologi presenti fa bene a prendere il 42 anche più divertitevi ho scelto questo da 38 che è sotto il polsino di una camicia è davvero molto molto bello molto molto bello ci sei cascato secondo me ci sta anche un GMT la mia scelta è stata c'è fresco messo GMT Black Bay questo orologio ce l'ho da due anni e mezzo quando vendetti l'Hydroconquest l'ho venduto per finanziare l'acquisto di questo comunque è inutile stavo guardando io ho il Brightling GMT ecco come si legge meglio con i numeri sulla ghiera esterna sulla ghiera girevole lì no? non c'è paragone io ho i numerini delle 24 ore sul Rio ci sono altri modelli di orologi che hanno GMT che hanno la lettura sul Rio però è inutile fatico anzi ci rinuncio qua con i numeri sulla ghiera è la migliore soluzione subito al colpo d'occhio vedi la lancetta il 14, 15, 16 e vedi che ore sono cioè se l'hanno inventato in questo modo ci sarà motivo no? poi tutto il resto è noia questo è uno degli orologi che anche se ormai sono passati due anni ogni volta che lo indosso è sempre un'emozione è sempre una soddisfazione è un orologio che tanti lo criticano per lo spessore ebbè però sul mio polso non lo sento ecco diglielo il problema di spessore non l'ho avverto bravo diglielo a questi e quindi ogni volta che lo indosso è solito esclusivamente godimento gne 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 bravo gli ultimi sono tre cronografi perché i cronografi in una collezione ci devono stare per forza il primo è il Bulova Lunar Pilot questo orologio ormai non lo utilizzo molto perché insomma come spesso diciamo qui sul canale il polso purtroppo è uno solo e quindi si fanno delle scelte come il polso purtroppo è uno solo? se io c'hanno due c'hanno due puoi indossarlo solamente su un polso da persona normale vuol dire questo purtroppo il polso è uno solo c'hanno due io questo è molto spesso è grande 44 mm però fondamentalmente è suo nella fase in cui l'ho utilizzato lo utilizzavo molto molto spesso anche in maniera molto comoda molto comodo molto spesso molto comodo poi secondo cronografo è questo Longin Admiral Crono automatico mi sono subito innamorato di questo orologio quando l'ho visto l'ho comprato immediatamente quando lo utilizzo mi piace molto la leggibilità col quadrante bianco è così e così però secondo me su un cronografo così sul vintage il bianco ci sta meglio rispetto ad altre colorazioni ma sì e infine Dulcis in fundo Omega Speedmaster Moonwatch questo orologio l'ho comprato per i miei 40 anni quindi ha un annetto scarso ho scelto l'ho comprato nuovo ho scelto la versione con con il vetro e salite perché insomma il colore che dà il calore che dà il quadrante con questo vetro e salite secondo me è tanta tanta roba rispetto allo zaffiro hai fatto bene va bene io come ultima cosa volevo chiederti intanto cosa ne pensi della mia collezione e se c'è un ultimo orologio che tu individui che possa come dire completare il tutto con una spesa di all'incirca 10.000 euro minchia davide ciao ciao minchia 10.000 euro di spesa così come fosse non so cosa dirti la collezione c'è c'è tutti i orologi con i quali ti puoi divertire che ti danno soddisfazione e che indossi con piacere sono tutti molto belli così abbiamo completato il trittico manca più che sono coevi e poi siamo a posto non ti mancherebbe niente non è che uno dice cosa mi manca non ti manca niente c'è tutti gli orologi che vuoi come ce li ho io come ce li hanno altri è solo che si vuole un orologio in più sempre qualcosa in più e con 10.000 euro ragazzo ci puoi prendere quello che minchia ti pare cosa vuoi che ti dico io cosa ti direi se ti piace visto che ti piacciono anche a te ti piacciono le dimensioni anche compatte lo Zenith è il primo io cado sempre lì c'è la versione da 38 mm cronomaster original 38 mm per me sono un po' piccoli ma per te secondo me sono perfetti con quello lì costa anche meno 10.000 ti avanza qualcosa per la pizza credo vabbè se no con un po' di sconto qualcosa sotto i 10.000 si arriva quello lì con quello lì poi c'è lo speedmaster è il primo e puoi andare in giro con due polsi tutti i due gli orologi su due polsi quello lì è il mio suggerimento per il resto sceglite decidi ti potresti prendere neanche due da 5.000 ma no se c'è veramente 10 da spendere spendi ne 10 per un orologio meglio così meglio se no dopo non lo prendi più nel primerone così se no fammi ripensare 9.000 8.000 glassute originali eccolo lì qualcosa di glassute originali con 10.000 euro ci viene e c'è un orologio con la manifattura tedesca dentro cavoli eccolo lì è da prendere poi scegli te se no io ecco cosa prenderei andando un pochino con spesa meno di 10.000 ci puoi andare su un bel Cartier Santos un bel Gegelecourt Reverso oppure un Panerai ecco i tre orologi che al momento mi intripano di più te lo ho detto io Santos Reverso e un Panerai a caso vai ciao Davide un saluto a te e a tutti gli amici del canale amici del canale ti mostro l'evoluzione della mia raccolta dagli inizi cercherò di fare una carrellata veloce questo è il mio ecco fatto che i guanti cioè quelli di lattice vabbè sbocce sbocce con movimento automatico scheletrato so che tu non impazzisci per gli scheletrati eh no insomma questo qua lo reputo abbastanza carino col suo movimento a vista il bilanciere il rotto di carica insomma carino dai insomma accettabile simpatico come dici tu un movimento a 21 rubini poi bravo nella mia evoluzione ho preso questo Dissot 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 di gentleman che conosciamo tutti in questo caso con il dial verde soleil con il suo bracciale fatto molto bene la caspa farfalla farfallina è veramente un bel orologio elegante e al contempo sportivo conosci bene anche tu questo poi passiamo sempre in casa svizzera a questo un altro mido ocean star con la ghiera in ceramica infatti come quello grigio quindi il 200c con il powermatic 80 quindi 80 ore di carica corona lugata fondello con la stella marina e clasp con prolungamento abbiamo visto prima il suo bracciale con la maglia centrale lucidata veramente un bello orologio così abbiamo visto grigio e blu il suo cuginetto mido un altro della serie ocean star in questo caso abbiamo il modello dell'edizione limitata Italia a cui ho montato il suo originale cinturino nato che è compreso nella confezione che io ritengo anche questo fatto veramente bene con i suoi i suoi riferimenti agli anni 60 anche questo qui è veramente un bel pezzo almeno secondo me poi un orologio che tu conosci secondo me ti piace anche questo Seiko topino questo Seiko 62 mass in questo caso è la referenza blu con il dial a corteccia molto bello molto bello come dici tu in questo caso non c'è la corona logata il suo fondello ben rifinito a cui ho lasciato addirittura la pellicola e vabbè ho messo un cinturino al posto del suo bracciale originale ma è molto utilizzabile perché è un 40,5 poi come ultimo orologio nuovo questo simpaticissimo 6,5 6,5 nella edizione limitata Snoopy poi sul fondello si sa che c'è anche lo Snoopy che va sul surf suonato suonato di serie diciamo è un orologio molto particolare più che altro da collezione però portabile perché è un 38 mm poi finito la parte diciamo degli orologi nuovi passiamo a qualche vintage che ho cominciato a iniziare a comprare sui mercatini quindi abbiamo questo 6 automatico anni 70 questo 1977 day date abbiamo un calibro S3 0 9 e molto carino con questa ghiera tipo dorata all'interno con questo riflesso del quadrante tipo soleil ho lucidato il vetro ho fatto qualche piccolo lavoretto ho sistemato il bracciale perché poi man mano dopo aver acquistato i vintage ho cominciato a trafficare anche diciamo un po' con la meccanica bravo però vedo che quel bracciale lì è veramente stanco lo vedevi che mentre lo maneggiavi tendeva a piegarsi in maniera quasi anormale proprio veramente l'usura l'usura dei bracciali è veramente dopo vanno rimagliati e lì si spendono dei soldi e ora chiaramente si rimagliano gli orologi che valgono un tot perché se la spesa è elevata vale solamente se l'orologio è a un valore elevato se no mettersi a sistemare un bracciale così e poi sempre sulla stessa scia abbiamo questo Seiko molto particolare tra l'altro è già revisionata con la cassa in ottime condizioni in questo caso il movimento è un 7006 con un magic lever tipo 7S26 un pochino più moderni dei date tiene molto bene il tempo e mi ha insomma tirato questo quadrante che è molto particolare siamo negli anni 70 ovviamente con il suo bracciale bracciale originale dopo di che dopo questo pezzo passiamo a questo Citizen questo Citizen è un Seven Eagle come si vede dal dial 21 rubini dei date e movimento miota 8200 con il suo bracciale originale in condizioni veramente molto buone quasi no scompatto anche questo è un mercatino funziona bene tiene il tempo e l'ho provato anche al crono comparatore ottime condizioni poi per concludere abbiamo due ussi abbiamo questo Vostok Comandinsky a cui ho fatto qualche lavoretto di manutenzione gli ho installato questo Nato che si abbina secondo me molto bene al suo dial gli ho sostituito la ghiera che era un po' rovinata insomma ho fatto qualche lavoretto di manutenzione tiene molto bene il tempo e questo è un modello particolare perché ha la scritta come si può se si riesce a vedere 3H3MOCCCP che identifica il fatto che questi orologi erano destinati solo ai componenti dell'esercito che potevano ritirarli andando con documento di riconoscimento presso il negozio che li rivendeva quindi degli orologi dedicati ai membri dell'esercito e non alla popolazione comune quindi ha questa caratteristica in più che ho trovato cercando e studiando questo modello poi rimanendo sempre per quanto riguarda nell'ambito dei russi abbiamo questo altro comandiski particolare con insomma con gli aerei da combattimento con la data meccanismo che funziona molto bene tra l'altro provate il cronocomparatore sono veramente molto buoni nonostante l'età questi Vostok e qua abbiamo il fondello con l'alba in questo caso non è un modello assegnato come invece era il comandiski di prima ma infatti non porta la scritta però comunque ho sostituito il bracciale perché il suo era un po' rovinato però ho comunque un ottimo orologio con veramente poca spesa e in questo caso anche in ottime condizioni quindi io ti saluto ti ringrazio ancora per il percorso che mi stai facendo fare ora mi sto interessando anche alla meccanica ho comprato il cronocomparatore un po' di attrezzi e spero di imparare sempre di più nel frattempo ti ringrazio un saluto a te e a tutti gli amici del canale love 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 cavoli bella collezione bella collezione perché si passa dai moderni contemporanei no lì diciamo entry level o mid range chiamali come vuoi per me sono quel mid range cioè anche se costano poco il bel secoli quello lì l'ho recensito anch'io mi piace tanto oppure i due mido ocean star il tisso gentleman ottimi orologi e nel comparto orologi contemporanei sia per le situazioni acquatiche che per tutti i giorni sei coperto poi lì da lì poi c'è un bottonetto dove si passa il vintage nei quali poi troviamo anche i due alla fine i due comandirski i due comandirski che le cose che mi vengono in mente sono come ho detto l'altra volta i quadranti variopinti quello lì con bianco con tutti gli aeroplani messi in varie posizioni belli dai sì però c'è un po' di sobrietà addirittura quell'altro che ti hai detto che e non lo metto in dubbio era riservato al corpo militare era acquistabile solo da loro no però per il tempo libero perché va in negozio gli dici sono militare e lo acquisti anche lì mi sarei aspettato un quadrante un pochino più più militare più sobrio no è per loro cioè un po' di serietà invece no c'è il caro armatino col cannone lì in bella vista io se fossi un militare l'orologio con caro armatino non me lo prendo ne vedo anche troppi dove sono io è il mio lavoro il mio mestiere la mia professione cioè l'orologio fammelo militare ma fammelo che sia propedeutico all'attività che faccio non celebrativo dell'attività che faccio non un souvenir e torno sul discorso del souvenir perché è quello che si va a battere a volte troppo stroppia no come diceva Rocco Sifreddi prossimo video ciao Davide ciao Roberto Hulk capitano America da Cagliari e ti mandiamo questo video per farti vedere la nostra piccola e umile collezione di orologi eccone in altro allora tralascio tutte le ciofeche a batteria da gioielleria da profumeria che abbiamo comprato prima nel 2019 non so nemmeno più dove le ho ti faccio vedere il primo orologio automatico che ho acquistato nel 2019 mi è stato regalato in realtà in occasione dei miei 40 anni l'ho visto prima è il Bulova Devil Diver nella configurazione da 44 di quadrante con il quadrante verde la cassa da 44 scusa molto bello molto iconico a me piace tantissimo ne sono innamorato al di là del valore affettivo di questo orologio qua la qualità costruttiva è quella che è però secondo me è un orologio che ha una sua forte personalità e certo tra l'altro secondo me Bulova è un marco che meriterebbe di essere rilanciato perché è un marco che ha fatto la storia della loro giria e mi dispiace un po' che ultimamente diciamo sia caduto un po' in basso a mio parere ma questo orologio secondo me merita davvero tra l'altro va a pescare nell'heritage di Bulova perché è la la reedizione diciamo di un modello storico poi abbiamo il Seiko S-Ki-X versione con la ghiera Pepsi il suo bracciale giubili molto leggero con la clasp in lamierino veramente sottile l'orologio la qualità costruttiva di questo orologio la conosciamo tutti però secondo me è un'icona dell'orologeria specialmente di Seiko e secondo me qualsiasi appassionato specialmente di diver come me deve averlo in collezione io ce l'ho so che ce l'hai anche tu tra l'altro bravo poi abbiamo un altro Seiko è un Seiko 5 Sport GMT ti dico la verità in realtà questo Seiko mi lascia un po' qualche dubbio nel senso che l'ho acquistato un po' di impulso ma lo trovo un po' troppo sbrillucicoso per i miei gusti e poi ti volevo chiedere una cosa la ghiera di questo Seiko diciamo vedi gira da entrambe le parti quindi non è bloccata su un lato e volevo capire se è un problema se è un difetto dell'orologio non è un difetto dell'orologio in un orologio GMT la ghiera è auspicabile che sia bidirezionale se sulla ghiera sono riportate come in questo caso le ore le 24 ore GMT la ghiera deve girare le 24 ore puoi posizionarla come meglio credi se invece è un diver GMT e sulla ghiera ci sono riportati i minuti di immersione vuol dire che è prettamente un diver e in seconda battuta un GMT quindi la ghiera deve avere la funzione per l'immersione e deve essere quindi unidirezionale come protezione dagli scatti non voluti con i minuti sopra ma così va bene così cioè non ho capito forse vorrei dire se in tutti sei quei cinque sport GMT è così ma credo di sì non me lo ricordo cioè non me lo ricordo ma è così però un orologio che fa il suo comunque quindi fa il suo fa il suo l'ha detto l'ha detto l'ultimo Seiko della mia collezione è questo Seiko Solar con un movimento diciamo a batteria barra solare accumulatore è l'unico orologio a batteria attualmente che ho o che uso comunque in rotazione ce l'ho perché mi piace esteticamente e perché comunque è sempre comodo avere un orologio a batteria sempre pronto diciamo quando non c'è il tempo si è di fretta non è il tempo di mettere magari in orario uno degli orologi automatici lo uso molto volentieri mi piace abbastanza ben fatto per essere un Seiko per essere un Seiko per essere un Seiko poi abbiamo questo rado cupole molto particolare con un quadrante con una lavorazione molto particolare le lencette blu che secondo me li danno comunque una forte personalità è un orologio che a me piace piace tanto ovviamente braccialato come puoi vedere tutti i miei orologi sono braccialati non amo molti cinturini su questo però ho un cinturino in pelle blu e lo utilizzo magari anche per occasioni un po' più formali magari qualche abito molto molto essenziale questo orologio ma io lo trovo anche abbastanza elegante quindi lo utilizzo anche in queste occasioni qua forse è un po' grande mi piace molto sarà grande poi un altro GMT della mia collezione eccolo qua questo Mido Oceanstar eccolo qua questo qua è un Mido Oceanstar GMT e la ghiera riporta i minuti per le immersioni quindi è giusto che sia unidirezionale con il blocco ok perché devi misurare i tempi e in questo caso come dicevo la lettura del secondo fusorario invece sul Rio che è molto più complicato vederla al colpo d'occhio se sono i pro e i contro in versione appunto GMT con questa combinazione in PVD oro rosa la ceramica nera della ghiera il quadrante nero a me piace veramente tanto lo trovo sportivo ed elegante nello stesso tempo è un orologio importante quando lo metti al polso si sente veramente perché ha il suo peso però è un orologio ben fatto io trovo che in Mido lavori comunque molto bene faccia degli orologi molto ben fatti la qualità di questo modello qua è veramente ottima lo metto sempre con molto piacere tra l'altro il movimento è un Powermatic 80 molto preciso perché mi perde non più di 3 secondi al giorno poi ho questo che tu conosci molto bene è un Shield Spirit nella versione da 40 mm con quadrante blu quadrante molto molto bello indici sfere veramente lavorate alla perfezione con una cura dei dettagli che secondo me conferiscono a questo orologio un pregio veramente alto un po' impolverato perché non lo metto adesso da qualche settimana però lo metto sempre con molto piacere anche se il lag to lag è abbastanza importante di questo orologio qua però insomma è un orologio di cui sono veramente felicissimo certificato COSC molto preciso col suo calibro L888 bravo un altro calibro L888 a rovescio è questo Longin Hydro Conquest con Ghieran Ceramica numeroni arabi io lo trovo bellissimo secondo me è uno dei daver più azzeccati diciamo attualmente in commercio una critica che gli viene mossa sempre sono i numeri arabi a ore 6 9 e 12 io invece trovo che proprio quello sia il suo carattere distintivo lo fa diciamo risaltare in mezzo alla massa di diver che spesso e volentieri sono tutti molto simili tra di loro questo si si riconosce proprio a occhio nudo un bracciale fatto benissimo perché il bracciale di questo orologio è veramente ben fatto importante lo si sente al polso ne sono molto contento bravo poi il tuo ultimo penultimo un tag oir top tag oir acqua racer calibro 5 anche questo non ha bisogno di presentazioni bellissimo con la ghiera in metallo che mi piace il più della ghiera diciamo colorata anche se la maggior parte delle persone vedo che lo prendo con la ghiera colorata mi è piaciuto molto con la ghiera in metallo una cassa bellissima sottile iconico anche questo qua poco da dire veramente un bello orologio ci piace anche se io a livello di tag oir acqua riesce preferisco quello da 43 da 40 questo qua penso sia da 43 o 40 non lo so sicuramente preferisco quello da 40 con il quadrante blu degradé l'adattario a ore 6 la ghiera in acciaio però liscia senza quei cavalieri lì che c'è il mio amico piero quello lì è veramente l'acquarese il preferito mio è perfetto questo qua un po' meno con quella lente magnificatrice lì data a ore 3 ghiera con i cavalierini sopra e per ultimo omega speedmaster date ah bello versione certificata a cronometro perfetto ha 15 anni ma non ha un graffio l'ho trovato in occasione l'ho subito preso lo metto veramente con grande piacere con grande piacere mi piace tantissimo fa il suo e niente questa è la mia collezione volevo sapere cosa ne pensi e come la completeresti tu a me piace tantissimo il black bay crono reverse panda volevo sapere cosa ne pensi ciao e grazie un saluto a te agli amici del canale e come sempre love love cosa ne penso di questa collezione hai visto c'è tutti i orologi super decenti c'è poco da dire rientrano tutti nei tuoi gusti hai fatto la tua scelta contento te contenti tutti e va bene così non mi permetto di dire nulla e non c'è nemmeno nessuna caduta nessun punto debole cosa ti consiglio sempre i soliti discorsi su cosa consigliare ma che ne so io te hai già le idee mezze chiare il black bay crono reverse panda mi sembra che hai detto bello bello io non lo comprerei non sono un estimatore così tanto di tudor nel senso da arrivare a comprarli mi piace guardarli però quanto costa il crono di tudor lì boh cosa ci puoi prendere ci puoi prendere altri altri cronografi ma secondo me sì però se ti piace il tudor io prenderei anzi un bright in crono amato a quel punto lì un bright in cronografo pensaci ci sono tanti bei cronografi di bright che insomma fanno anche un pochino il culo al tudor comunque poi se a te ti piace quello prendi quello non è che non è che stai buttando via i soldi anzi bello orologio davide buonasera sono leonardo da potenza leonardo questo che ti mando è il secondo video ti ringrazio in anticipo se lo pubblicherai va bene e ti mostro l'ampliamento della mia collezione non la colazione l'ho già fatta stamattina bravo la mia collezione sono quattro pezzi quindi andiamo spediti e rapidi vai il primo è questo Seiko Presage 60s l'orologio che a me piace tanto ha la particolarità la particolarità di avere il quadrante due toni secondo me la parte centrale con una colorazione sole che dà sul marrone mentre il rio intorno è un po' più scuro la lunetta è fissa le dimensioni sono 42 mm no 40 questo è 40 mm 8 diametro cassa 46 mm lag to lag monta un movimento 4R35 ecco l'orologio arriva con il suo bracciale questo che ho preso io avevo il bracciale nato con il suo bracciale nato nero io però l'ho cambiato con questo modello dicono James Bond 5 righe mi piace di più con questa colorazione il secondo orologio che ti mostro è un altro giapponese non ha bisogno di presentazioni lo conosciamo tutti Citizen ProMaster la particolarità di questo orologio è che è in titanio cassa e cinturino in titanio diametro cassa 42 mm vetro minerale come minerale era anche il Seiko molto leggero al polso mi piace anche la corona sul lato sinistro io gli orologi li porto sul lato sinistro per cui non impatta come che bello questo Eterna questo qui è l'Eterna Marti pin in farina bello bello che spettacolo questo e quindi non avendo la corona da questo lato mi piace molto di più l'estate che si gonfia il polso si blocca sul polso mi dà meno fastidio si blocca tutto il terzo orologio è unita allo svizzero cos'è? Eberhard Scafomatic è brutto la corona impatta un po' di più però va bene così Eberhard Scafomatic diametro cassa 42 mm lag to lag 49 mm alleanze particolarmente pronunciate cinturino caociu Eberhard mamma mia brutto molto bello questo ha l'obietro minerale monta un movimento ETA 2824 ancora agli ETA almeno così risulta ma si ma non è ancora hanno gli ETA montati si ma non è il problema quello che l'ETA sellita però guarda che è brutto minchia l'hai visto che indici che numeri che si può guardare il quarto invece è uno svizzero pieno ed è questo Tachéor Formula 1 GMT 41,8 anzi no questo è 41 mm 41 mm diametro cassa 46 mm lag to lag centurino originale Tagoer bracciale non è zechiuna non è zechiuna perdonate la mia pronuncia no ma bracciale centurino non è zechiuna ghiera fissa vetro zaffiro il movimento che monta non lo so l'ho comprato usato c'è scritto lì che tiene il tempo non l'ho fatto revisionare non ho fatto ricerche calibre 7 ammetto tutta la mia ignoranza non ho fatto ricerche su internet quindi se sai qualcosa come se sai qualcosa è il calibre 7 quello che loro chiamano calibre 6 il calibre 5 è l'ETA 28-24 oppure sellita sv200 calibre 7 è la versione GMT del 28-92 cioè il 28 ETA 28-93 oppure il sellita sv e non mi ricordo come si chiama quello sv330 quello GMT mettiamola così prendetela per buona la versione il calibro di di fornitura di sellita o di ETA è lì dentro come il mio brightening GMT cioè non è che c'è da scandalizzarci magari mi dici che tipo di movimento monta te l'ho detto questo roloce mi piace mi piace particolarmente quindi una domanda è su che tipo di movimento ha il tagheur e l'altra domanda è mamma mia questo orologio si chiama scafomatic si ha una resistenza all'acqua di 50 metri grazie mille grazie se pubblicherai il video e magari a un terzo nella speranza che la mia collezione cresca ancora di più bel lavoro continua così ciao a tutti ma che minchia ne so perché si chiama scafomatic se c'è già 50 metri di impermeabilità per chi mi è preso per il progettista di Eber ma che ne so è brutto talmente brutto che potrebbe chiamarsi anche scarafone matic ma non cambia niente poi che problema perché ti dici scafo scafografo c'è lo scafografo che è a 300 metri scafomatic ti dici dovrebbe essere impermeabile non lo so ma che minchia ce ne frega già hai fatto un errore a scegliere un orologio del genere l'ultimo dei suoi problemi è il nome no brutto brutto ma il resto tutti gli orologini si salvano tutti in corner chi qua chi là sei promosso dai bravo ciao Davide ciao sono Stefano ho 34 anni va bene e diciamo che gli orologi mi sono sempre piaciuti però poi dopo la mia passione diciamo che è andata a scendere anche poi che ero pischello così adesso a riguardare i tuoi video mi è ritornata la passione la passione la passione dico ahimè la passione perché è una passione molto costosa allora vabbè partiamo partiamo con un regalo della ma che minchia di guanti c'è che c'è quelli che da supermercato per prendere la frutta eh quelli lì poi scusami mi è tornata la passione c'è a spendere i soldi hai preso questo mamma mia come se quanta roba c'è attaccata su quadrante questo orologio qua cos'è un imbroglion non so se l'imbroglion è brutto però cresima che questo citizen wartime cronograf vabbè niente è roba di quarzeria cosa dobbiamo fare quarzeria un regalo però vabbè tac per quando hai quelle tali va bene va bene questo anche se un quarzo ci tengo di più perché era del mio papà non l'ho mai visto sul tuo canale è un seiko sport da 150 mai visto vita mia questo qua l'ho indossato con molto piacere perché alla fine un ricordo dai non è neanche brutto alla fine si salva anche se quest'oro qua so che a te sicuramente non piacerà color oro niente poi passiamo agli acquisti che ho fatto io ponderati questo è un bel tisso prx che ormai conosciamo tutti si promosso dopo che l'ho comprato ho iniziato a guardare qualche recensione e da lì ho detto ho fatto proprio bene a comprarlo mi piace con il suo powermatic 80 e come dicono tutti è un calibro molto preciso infatti perde 2-3 secondi al giorno certo carino ma si dai primo acquisto bello bello poi diciamo che il video l'ho fatto soprattutto per questo nuovo arrivo comprato dallo zio giacomino dalla gioielleria pascuale domenici tagoia la carriera questo qua è proprio bello è il 39 mm quello che io ho definito l'anti dejas l'anti acquaterra perché a livello di finiture di indossabilità e di stile è proprio su quella falsa riga lì come il dejas come l'acquaterra è proprio fine bello proporzionato con le tue finiture bell'orologio certo con il quadrante bianco io non l'avrei scelto però te l'hai scelto poi alla fine della fiera anche a me ci vorrebbe un orologio con il quadrante bianco che al momento non mi ricordo non mi risulta che ne ho sapete non mi ricordo di avere un orologio con il quadrante bianco non ce l'ho prima o poi bisognerà porre rimedio cioè non si può star senza che quando l'ho provato in gioielleria ne sono subito innamorato lì ho iniziato a cercare i video mi è venuto fuori anche il tuo video proprio in questa versione e niente un grandissimo prezzo dalla parte da parte di Giacomo e niente l'unica pecca diciamo che ho trovato è che comunque diciamo che potevano mettere la versione top grade del selite sv200 invece che quella elabore questo invece perde anche 6 secondi al giorno rispetto all'altro però è uno spettacolo 6 secondi veramente bello veramente veramente bello e già lo metto via perché sennò mi viene voglia di venderlo e comprarlo un'altra volta e se non me lo darei te lo do io top ti voglio fare una domanda sul carriera secondo te per occasioni diciamo in veste elegante conviene comprare un bel cinturino che io sono fan del bracciale ed è bellissimo col bracciale però stavo pensando di comprare anche un cinturino e originale costa 360 euro ma no ma non lo prego io quasi quasi volevo farlo fare da John Coolstraps e ho trovato c'era sia la Deployant a 200 euro circa originale Tagoyer del Carrera o se no ho trovato anche solo l'ardiglione con 80 euro tu cosa ne dici e niente vabbè grazie se lo pubblicherai ti saluto saluto e saluto a tutti ciao ma guarda io sei un cinturino un cinturino after marketing non mi preoccuperei nemmeno di cercare la Fibia di Ione originale o la Deployant originale sinceramente guarda se ne può anche fare a meno lo so che magari ti fa piacere andare in giro con l'orologio e con la parte sotto corrispondente marchiata con lo stesso marchio però secondo me se ne può fare a meno è un divertimento poi sono convinto che indosseresti più volte il bracciale e meno volte il cinturino perlomeno presumo quindi a maggior ragione perché stare a spendere soldi ulteriori per la fibbia lascia perdere ti fai fare un bel cinturino come vuoi te colore che vuoi te spessore che vuoi te e ci lasci la fibbia che arriva o se no ci metti una Deployant di quelle after market la fibbia va benissimo l'unico mio dubbio è che su questo tipo di orologio se il cinturino ci sta bene non mi ricordo non ce l'ho presente perché è una forma forma di cassa abbastanza squadrata non so se guadagna in eleganza hai capito se diventa poi veramente elegante come ci si aspetterebbe potresti fare la prova mettendogli un cinturino qualsiasi che hai già e vedere se ci sta bene se se la cava a quel punto glielo fai fare come si deve però ho miei dubbi certo anch'io sono da bracciale e tutto sommato questo orologio qua col suo bracciale è elegante è elegante anche in quella versione lì certo non tanto elegante da cerimonia ecco da cerimonia ma da cerimonia nemmeno con il cinturino una cerimonia di quelle come si deve per definizione un gran galà prevede un orologio veramente piccolo con un cinturino di cuoio sottilissimo magari un materiale prezioso minimal hai capito è così se noi stiamo a vedere queste cose se no se ne esce più comunque dai belli orologi simpatico a te è bello quest'ultimo acquistone tagore carriera che non tanti si filano ma va tenuto presente anche quando ci si pone delle varie alternative dai boom mi sembra di aver detto tutto ragazzi vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi siano piaciuti i video e i video dentro al video e il video fuori dal video con il presentatore c'è tutto questo video vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love mi sembra di avervi